ciao a tutti amici e amiche di inside2games benvenuti in un nuovo video raga siamo gli impostori siamo l'impostore su amon gas raga vi raccomando se vi piacciono questi video lasciate un bel pollicione all'insù raga lino perché mi ha visto in rosa però vabbè raga non mi hanno dato manco il tempo facciamo where dove vabbè raga però se mo incominciate a quittare vabbè raga ma mo quittano tutti cioè come si vede che sono gente che giocano cioè è vero raga ho fatto qualche altra partita ma giusto per riscaldarmi un po ma non è detto che se non sono impostore il gameplay cioè non lo faccio anzi comunque vediamo un po raga ogni tanto mi guardo perché c'è il gatto ok soltanto un attimo raga perfetto no perché c'è un gatto se no facciamo sabota niente non possiamo fare niente hanno aperto di qua possiamo andare raga scusate se sentite il gatto in sottofondo ma purtroppo quando si sveglia e vuol giocare e io invece sto giocando ad altro ecco sì comunque ok ok è andato da questa parte non mi conviene adesso perché quello lì di color nero mi ha visto quindi automaticamente poteva dire red il red era con nero e abbiamo vinto così raga semplice semplice vabbè raga io che dire boh